Gli ho detto, anni sei, non abbiamo neanche il tempo di fare la cosa, dicendo no, facciamo la collezione sulla strada, non ti preoccupare. Infatti entro, dentro, così vedo questa scena bella, questa gente tutta, cappuccino, latte, caffè, queste cose, sai, tipo europee, io venivo dal Medio Oriente, non avevamo queste cose qua.